Ragazzi vi ricordo che se avete un account moddato su qualsiasi gioco potete scrivermi sulla mia pagina Omega interagendo con me e inviandomi un messaggio dove dovrete affidabilità, onestà e velocità In alternativa potete scrivermi sul mio profilo privato Anthony Rossi con questa foto potete inviarmi un messaggio e parlare con me C'è anche ragazzi il mio sito omegaofficial.it dove potete consultare i vari listini con i vari prezzi e scegliere la mod che fa per voi Trovate tutti i link nella descrizione Ciao a tutti ragazzi sono Omega Ciao Dicevo Ciao ragazzi sono Omega e oggi siamo tornati su GTA con un nuovo video e faremo il terzo video con l'elemento alieno che ho trovato nell'area 51 qualche mese fa Allora come notate oggi siamo su PS4 quindi è un tantino diverso perché prima finora abbiamo lavorato su PS3 per ora lavoreremo su PS4 Cosa vuoi fare oggi? Tre soldi Adesso ci sono che oggi spenderemo i soldi Partiamo che Scusa fai la freccia in basso un attimo Fai la freccia verso il basso Abbiamo 3 miliardi quasi Sì perché alla fine 3 miliardi sono più o meno Quindi vediamo quanti soldi riesce a spendere questa tipa qua Quindi questo video ragazzi è apposto giusto giusto per vedere quanti soldi spendono le donne Quindi sia nel gioco virtuale che nella realtà le donne spendono e spandono comunque Stai facendo un casino dalla madonna eh Nuovi ti poveraccia vai mezzo alla strada che non è un euro Adesso vai dove dice lì pubblicità sponsorizzata E dove? A destra Ok faccio X Adesso compriamo lo yacht Che lo yacht costa già un bel po' Quanto costa? 6 milioni costa Cioè tu sempre a spendere vero? Ok Fai X qui sul primo Tu c'è la freccia Sì cerca Ah beh Non iniziamo a scrivere Fai X qua Ok Ok Fai creare il tuo super yacht Scegli il tuo modello vai Vai là dove dici a scegli il tuo modello Vai X E scegli quello che vuoi Cioè o Pisces o Aquarius Qual è la vuoi? Che cambia? Eh c'è Fai X su Pisces Mi piace Aquarius Eh prendi Aquarius Ok Ok vedi è diverso C'ha la piscina C'ha Ah cosa di più però Cromate Metti dorate Metti dorate Ok E costo già E sono 750 mila dollari in più Va bene Tanti soldi si trovano per terra E mo le luci Vedi lì sono luci verde Rosse e blu Come vuoi Ma se io volessi vedere Prima l'effetto E fai X E vedi Vai metti giallo E compra allora Quindi abbiamo Siamo arrivati a 9 milioni di yacht Praticamente Fai avanti Per l'incolore a caso Tanto No Non lo dovesse scegliere bene Scegli te lo ho bene Non c'è i soldi Non te lo puoi comprare E' veramente no Tanto ci sei tu Che me la capi Sei sicura? Sì Non riesco Tutto a bianco Oh mega triste Fai questo a bianco Bianco è il classico Prendi il bianco e te ne vai Oh Non la vedo qua Qual è? Ah si Degli Stati Uniti E ti fai questa Metti sempre qua la manina Bellissimo E metti quello che vuoi Sì però questo è il mio yacht Non è il tuo No X sull'Otto X su inserisci un nome Bene Il prezzo totale C'hai spesso 10 milioni Per uno yacht Vabbè dettagli Vai Fai acquista ora Acquisto riuscito Completato Grazie per aver trasglotato Per aver trasglotato Eh si Pecca l'Oyot Alla fine Che carino Vai Fai continua Ora L'Oyot l'abbiamo comprato Abbiamo spesso praticamente 10 milioni Cioè Questa ragazza è stata capace In 5 minuti Di spendere 10 milioni di dollari Quindi Vedete che cosa succede Se veramente Te lo facessi nella realtà Quanti soldi fumerebbero Tanti Va ora Cosa vuoi comprare Vuoi comprare Ho lo studio E tutte e tante macchine Vuoi comprare lo studio Poi c'è due Ok vai Fai cerchio E spendiamo soldi Di Omega Tanto Cerchio 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 Ok ora vai dove dice in basso a destra Dynasty 8 E poi pure qui devi cliccare al centro Perché lì c'è lo studio Ma scelti dove vuoi acquistare Mi ha ucciso Eh non gli ho fatto niente Però non la uccidete Mentre stanno a comprare le cose Ma mi uccidete Eh vabbò vai Ma devi ritornare al telefono Dai ce la puoi fare Dai 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 Freccia il basso Beh su entra Adesso scegli un posto Dove vuoi chiedere Dove vuoi mettere l'ufficio Perché è marocchino Vada X Sei marocchino Ok vai a partire da 4 milioni Bellissimo Questo costa anche di più Cioè praticamente Bellissimo Ora devi scegliere gli interni Quindi devi scegliere i colori Vai scegli il colore che ti piace di più Quale è il colore che ti piace di più? D'epoca? Accogliente? Non accogliente? D'epoca Oppure penso la barbona Che a te va a pire No ma d'epoca è bello A te da barbona D'epoca Scusa Ok vai a personale Non Ok allora sta già selezionato Vai sul nome Vai E metti il nome che vuoi Il colore che vuoi No ma fa schifo Ok ma scegli il nome dell'organizzazione Eh non mi uccidono Ragazzi avete rotto il cazzo Per me ve lo dico Non tacci vostro Le donne non si uccidono su GTA Ditele grazie che non mi ha venuto Mi facevo un culo a taram Fai arma dietro armi Vai E metti Cioè ve l'arma dietro armi Perché le devi mettere Spunta Ok Vai a casaforte Devi mettere anche Quella devi mettere di tutti Metti lo stesso per casaforte Metti pure l'alloggio Perché così possiamo dormire Anche nella Nell'organizzazione E fai acquisto Ok Altri simili Quindi in totale sono Vai fai acquista 6 milioni e 600 mila dollari Perfetto Quindi Acquisto in corso Congratuazioni Abbiamo comprato Adesso siamo andati nel garage Perché abbiamo acquistato anche l'altra casa Quindi quanto abbiamo speso in totale? Ok Quindi siamo intorno ai 14 milioni Non mi ricordo Ok ora che cosa Ora ci mancano le macchine No 15 mila e qualcosa Ci mancano le macchine adesso Non esiste la Porsche Quali la Porsche? Ok Vabbò Fai sempre la traccia in alto E' questo Sì lui sì Quello è Ma ce la fai o sei ubriaca? Accanto sì Brava Perfetto E qui ci sono le macchine più costose Allora C'è la Pegasus Reaper Che costa un milione e cinque Questa che costa due milioni e sette Questa è tipo una Ferrari Infatti Se tu vedi Ricorda molto la Ferrari Il modello Ok quindi Io tengo il conto Le spende Fai la latina Ok E metti Fai la seconda opzione Che serve Il secondo garage Qui Sì fai X Qui arriverà qui Ok Ne vuoi comprare un'altra simile? No diversa Fai cerchio Quindi ragazzi siamo a 17 milioni Quando fa così Devi fare cerchio 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 Ok vai 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 Questa E' un'altra quella la Ferrari Sì Ok vai Compra anche questa La vedo Fucsia Fucsia C'è proprio così i colori a casa Mi piace il Fucsia però Ok fai ordine Sempre il secondo Che arriverà qui Nel questo garage Ok Ma fai cerchio E ritorna indietro Così compri un'altra macchina Ci dovrebbe essere l'altra macchina Quella che è uscita adesso Ah no Questa è la Grotti Quella che abbiamo preso prima È la Grotti Quella nuova che è uscita Questa è un'altra Ci dovrebbe essere anche E allora compra questa Mi sembra anticappato Che non riusci a premere la levetta Perché non hai scelto il colore Oh l'ha scelto Eh molto l'ha scelto Prendi blu Quindi ragazzi Siamo arrivati a quota 19 milioni Più o meno Forse con le metà Le altre Vai giù adesso Ok Adesso c'è un'altra macchina Che è l'FMG Vapid FMG Che è un'altra macchina Abbastanza veloce Che è sempre di lusso Vai Se vuoi comprare la gialla E con questa ragazzi Siamo arrivati Alla bellezza di 21 milioni Ci hai speso 20 milioni In 10 minuti Sei contenta di questa cosa? Brava Non andare fiera Fa un caldo tremendo X sul Rhino E compra questo Quindi abbiamo straforato I 20 milioni Perfetto Quindi fai cerchio Più intanto c'è la gente Che scrive Fai un'attività Vai fai cerchio Vuoi comprare un altro veicolo Vuoi comprare una barca Un'altra Ma qui che si fa? Quello là Questo insurgente pick up Che è forte Giù Giù Questo Questo? Compralo? Compralo Va fai acquisto Qui non si scioglie niente Sono dei veicoli militari Già predisposti Vuoi comprare qualcos'altro? Sei stanco di spendere soldi? Per oggi? Per oggi no Perché poi dovrai spendere ancora Perché dobbiamo andarci Alla qui vedi Stanno varie cose Poi tu puoi comprare la lampa Lampa di toro E rimorchiatore Questo? Si compra quello Si infatti è bene Sta barca è per i papponi Come me? No Tu non sei una pappona Ok Finito Ok Ora puoi far cerchio 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 E basta Hai finito Tutto qua Speso Quanto hai speso intorno? Hai? Ho perso il conto Proprio meno 23 milioni 22 milioni Forse ragazzi Voi vedete il video meglio Sapete farlo meglio voi Quindi Ha speso un bordello di soldi In 15 minuti 10 minuti Non so quanto è Quindi Non so Sei fiera di questa cosa che hai fatto? Tanto Ok Io no A questo punto ragazzi Siamo alla fine del video Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E scrivetemi nei commenti Se riuscite a fare il calcolo per bene Quanti sono riuscite a spendere Perché ci sono cose che costavano 1.600.000 1.700.000 Lo iote Così Non so Mi ha preso Sbarricato proprio Quindi Lasciate un mi piace Ragazzi Ditemi esattamente quanto ha speso Se riuscite a fare il calcolo Quanti mi piace per questo video 400 400 400 mi piace ragazzi Per questo video A 400 facciamo il prossimo Al prossimo Ti faccio sclerare Vi dico soltanto che al prossimo La faccio sclerare come Una cagna Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Nel senso che La farò sclerare Si dice sclerare come un cane Però siccome lei è femmina Come una cagna Ah va Aia Ehm Non si spoiler Quindi Ragazzi per questo video è tutto Noi ci sentiamo al prossimo video Ricordate di passare dai link In descrizione Ci sentiamo al prossimo Ciao 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 Spendaccio Ciao 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 Ciao